Com'è Novella sentirsi sul balcone dopo un lockdown così lungo? Sicuramente avrà visto anche il tuo balcone, magari protagonista. Ma io sono stata fortunata, ho fatto un lockdown in campagna, quindi devo dire che non l'ho subito così come in città. Però devo fare una precisazione, sicuramente io sono la più vecchia dal punto di vista natatorio. Ma io lo sapevo che lo sai per dire, per me sei nel mio cuore Novella, la più grande modetrice di tutti i tempi, anzi secondo me anche la più grande atleta italiana è Federica Pellegrini. Che noi salutiamo, ma avremmo parlato di Federica perché chiaramente è una straordinaria campionessa. È possibile no non farlo, chiaramente. Però per noi sei la campionessa nei nostri cuori, Novella ci sei tu. Lo so che ti può sembrare strano detto così, ma è la verità. Nel cuore degli italiani, come abbiamo detto, non potevamo non cominciare questa puntata dedicata ai campioni con una grande donna come te, che soprattutto ha un grande primato perché sei stata tu a vincere appunto la prima medaglia in una Olimpiade, soprattutto nel nuoto, nelle famose Olimpiadi di Monaco nel 1972. Volevamo subito sapere che ricordi hai, anche perché purtroppo quella Olimpiade è ricordata anche per un terribile evento che si parla appunto di terrorismo palestinesi che hanno ucciso poi 11 atleti israeliani. Quindi tu a 17 anni, come hai vissuto quel momento tra la vittoria, la medaglia e quel momento drammatico di storia? Io sono andata ai giochi olimpici con una grande incoscienza. Cercavo, l'obiettivo era quello di entrare in finale perché nessuna italiana era mai entrata in finale. Invece alla prima gara ho fatto subito medaglia d'argento, sono salita così, è stato un po' uno shock. Poi da quello, siccome nei 400 stile libero, poi avevo gli 800 stile libero a termine del programma natatorio e allora il mio allenatore disse no, ti cala l'attenzione, ti mettiamo anche un 400 misti in mezzo. E feci 400 misti giusto per non calare e arrivai terza. E poi arrivai al bronzo anche negli 800 stile libero. Quindi fu un'apoteosi dal punto di vista dei risultati per quanto mi riguardava. Ma diciamo che l'atmosfera era assolutamente serena. Noi non ci siamo resi conto di nulla. Se non terminate le gare, proprio perché io avevo vinto le medaglie, potevo rimanere. All'epoca il villaggio femminile era separato da quello maschile. Addirittura c'era una divisione con controllo agli ingressi. Come sono cambiati i tempi, vero? Sì, sì, per fortuna. Beh direi anche per separare i villaggi. Per fortuna. Invece le palazzine delle nazioni erano in ordine alfabetico. Quindi l'Italia era accanto ad Israele. Ad Israele, certo. Io avevo avuto il permesso insieme alla mia compagna di stanza, che poi è stata, che è anche una delle mie migliori amiche da sempre, che è Chica Sabilini. Avevamo la possibilità di rimanere perché volevo andare a vedere l'atletica. E quindi andammo alla palazzina dell'Italia per prendere i biglietti per andare all'atletica. E lì abbiamo visto tutto questo trambusto. Noi, insomma, io ero abbastanza pestifera. Quindi siamo salite immediatamente sopra per vedere. Vedevamo queste persone per noi mascherate. Non capivamo che cosa stava succedendo. Sì, si è trovata proprio nel momento in cui c'è stato appunto... No, io mi sono trovata quando c'era il traffero. Nella notte avevamo sentito degli spari. Avevamo sentito un'esplosione, uno sparo, eccetera. Però c'era sembrata... Non avevamo realizzato che cosa era successo. E niente, quando siamo arrivati su, c'erano tutti i giornalisti sotto. Io col citofono facevo... Praticamente davo le informazioni dicendo Sta uscendo questo, sta uscendo quell'altro. Ma io non mi rendevo conto di che cosa stava succedendo. A un certo punto arrivarono due energumeni che erano evidentemente dei servizi segreti in Borghese che ci sollevarono di peso, ci portarono giù e da lì ci dissero fate subito le valigie e andate via. Andammo a fare le valigie molto arrabbiate perché diciamo come ci avevate promesso di andare all'atletica e tornando incontrammo una nostra amica israeliana che era fidanzata con un allenatore israeliano del canottaggio e lei piangeva disperatamente. Io sono andata per avvicinarmi al chiede e immediatamente sono stata mandata via e anche quello è rimasto, forse si è sentita male forse non capivamo che cosa successe. Quando siete riuscite a capire cosa fosse successo? Quando siamo arrivati in Italia quando siamo arrivati in Italia ci hanno imbarcato subito e quando siamo arrivati in Italia tutti ci facevano domande scese dall'aereo su questo aspetto noi non sapevamo cosa rispondere. Sempre riferito a quelle olimpiadi straordinarie per te Mark Spitz che è il nuotatore americano che proprio in quelle olimpiadi ha vinto ben sette ori dichiara alla stampa che la grande rivelazione in realtà di quelle olimpiadi era proprio Novella Caligaris. Ora non so se fosse attratto dalla tua bellezza oppure solo esclusivamente dal tuo straordinario talento. Magari era innamorato proprio. Non è un segreto che con Mark abbiamo avuto un fidanzamento tra virgolette che era diciamo come allora quindi era molto epistolare molto fatto decisamente diverso dai tempi attuali ma anche adesso comunque si scrivono e si vedono poco quindi è sempre epistolare in un certo senso. Ah quindi avete avuto un flerto? Sì tant'è vero che lui aveva un appuntamento lui a un certo punto mi ha dato un biglietto dicendomi guarda devo ripartire e gli dici guarda questo mannaggia. Sentiamo i nostri amici collegati abbiamo due campioni collegati che sono appunto Margherita Grambassi e Patrizio Liva. Ciao Margherita, ciao Patrizio. Sicuramente vi conoscete ovviamente perché tra campioni... Ma appunto Margherita diceva che sta facendo fare nuoto a sua figlia. Margherita che dici potrebbe diventare una campionessa come la nostra novella? La Pellegrini. Guarda sarebbe bellissimo che diventasse una campionessa in qualunque cosa scegliesse di fare. Certo il nuoto è uno sport fantastico ma devo dire la verità che il mio intento non è esattamente quello insomma è un po' piccina ancora per cui mi auguro che poi diventi magari una campionessa dentro nel senso della cultura sportiva che credo che sia una cosa importantissima cioè imparare e assorbire tutto ciò che lo sport ti insegna anche se poi non hai velletà agonistica anche se poi non diventerai una campionessa però come dicevo prima poter fare sport ad alto livello è una grandissima opportunità per cui io glielo auguro e cercherò di spronarla comunque qualunque sarà il suo desiderio. Io credo che l'importante è da trasmettere da trasmettere ai nostri figli e far capire che non è importante essere per forza campione che devi vincere la medaglia o la coppa l'importante è provarci perché se ci provi nello sport sei una persona che poi ci proverà anche nella vita e noi questo dobbiamo trasmettere ai nostri figli. Ma sicuramente comunque una cosa fondamentale che insegnare a nuotare un bambino è la prima assicurazione che si possa fare sulla sua vita e tutti i bambini dovrebbero essere per legge obbligatorio questo è un punto fermo e poi aiuta perché fisicamente è lo sport più completo assolutamente comunque da una notizia a Margherita che siccome il mio compagno Renzo Musumacci Greco mi ha messo in pedana e vorrebbe farmi allenare per i master gli ho detto che io ho già dato dal punto di vista agonistico No, c'è tempo c'è tempo per farlo No, invece è una bellissima notizia devi farlo assolutamente Tu sei bellissima sei informissima e vorremmo proprio che lo facessi Ma voglio chiedere però ai nostri campioni che sono in collegamento che ora dovremo salutare perché devono andare a fare le prove dello spettacolo Insomma, Novella ha parlato di un'esperienza alle Olimpiadi davvero molto drammatica Sicuramente Margherita non era nata forse Patrizio si ricorderà Insomma, vivere un'Olimpiade è già un'emozione straordinaria ma vivere un'Olimpiade con un attentato così grave cosa ne pensate? Ma io voglio dirvi addirittura che si ricordo perché tenevo comunque 13 anni in quell'Olimpiadi doveva partecipare anche mio fratello Mario per il pugilato era il titolare della squadra però a due giorni dalla partenza fu punto da un insetto gli uscì un'infezione al viso e non potevi più partire e certo tutti l'abbiamo vissuta con grande paura perché è una cosa che neanche in un film forse un regista avrebbe immaginato un epilogo del genere di quello che era successo quindi da quel giorno lo sport poi è stato comunque protetto con i villaggi chiusi quindi chiaramente si è corso poi ai ripari ma fu una cosa veramente molto brutta perché la politica entrò nello sport quando poi lo sport sappiamo bene che ha sempre ha sempre tentato di tenere lontano comunque le guerre e la politica di essere politico certo lo sport deve rimanere tale Margherita tu invece che anche tu hai partecipato insomma a tante Olimpiadi e sicuramente insomma che cosa si prova a partecipare a un'Olimpiadi Margherita? è magico è magico è quel sogno che avevi da bambina e che speravi di poter raggiungere io forse non me l'aspettavo in realtà per cui è stata è stata una bella sorpresa ma è stata una bella sorpresa scoprire che ero in grado di essere lì anch'io è stato tutto magico mi ricordo delle emozioni veramente belle belle indescrivibili che ancora oggi veramente mi accompagnano e mi fanno sorridere ed emozionare vorrei dire a Novella che deve assolutamente provare a fare scherma per cui io la voglio vedere in pedana e sono sicura che si appassionerà molto perché i master sono i più accaniti già dato volevo sapere stasera debuttate quanto starete in scena? stasera sì ieri abbiamo fatto una prova generale però con il pubblico presente stasera ci sarà la prima saremo in scena un'oretta ecco è un concerto che dura un'oretta perché lo spettacolo comunque è un po' a mo' di concerto ci sono anche musicisti sul palco che ci accompagnano accompagnano i nostri dialoghi con la musica naturalmente è in bocca al lupo da parte di tutti noi da me da Beppe da Nanovella davvero incrociamo le dita per voi grazie a Margherita Granbassi e grazie a Patrizia Oliva due grandi campioni olimpionici e due grandi campioni della vita davvero grazie per essere stati con noi grazie per essere stati con noi ciao 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 insomma Nanovella partiamo dall'inizio tu da bambina sicuramente qualcuno avrà iniziato questa straordinaria notatrice che poi diventa olimpionica chi è che ti ha lanciato in acqua per la prima volta e ha detto vediamo questa campionessa dove arriverà allora i miei genitori erano nati a Trieste a Trieste c'era una mentalità poi ha origini davvero molto miste nel senso che ha una nonna francese un nonno tedesco una nonna montenegrina e un nonno di origine greca quindi tutto un miscuglio infatti io dico sempre di dove sei sono di Padova perché almeno lì sono nata se no diventa veramente complicato però i miei erano triestini Trieste aveva una mentalità estremamente mitolo Europa quindi insegnare fare lo sport era parte dell'educazione dei bambini in più mio padre aveva una barca per cui insegnare a nuotare era il motivo principale sia per me che per mio fratello di stare sicuri e quindi di non avere poi problemi quando uscivamo con la barca ti chiamavano Pulce mio padre mi chiamava Pulce perché io sono sempre stata a minuta e quindi là in mezzo ero mentre mio fratello era alto un metro e novanta io ero piccola infatti c'era anche sempre la battuta che faceva mio fratello che mi innaffiava i piedi sperando che crescessi c'era sempre questa gag familiare per cui poi io devo dire che sono stata affortunatissima perché sono nata a Padova dove c'era un amico di famiglia un amico di famiglia che era Ivone Grassetto l'impresa Grassetto che è stato uno dei grandi mecenati allora c'erano i mecenati nello sport e nel 1960 regalò alla città di Padova un centro sportivo all'avanguardia con la vasca da 50 metri la vasca 25 avevamo la clubhouse noi avevamo una gestione della società dove naturalmente tutti i genitori partecipavano però era a livello di college americano avevamo il pulmino che ci veniva a prendere avevamo una clubhouse dove potevamo rimanere il pomeriggio e studiare quindi se fossi nata magari a Vicenza non avrei potuto avere questa queste agevolazioni in più essendo lui essendo un anni grassetto un grande amante dello sport è stato anche presidente dell'Uniro con me aveva poi con la mia famiglia aveva un rapporto molto forte ha sempre preso i migliori allenatori al mondo che c'erano in quel momento poi è stato l'incontro con Bubi Dennerlein e lì è stata la svolta perché ha capito che ero uno splendido talento novella perché tu ti sottovaluti io ero la più piccola continui a dire sono fortunata perché hai incontrato tu sei un talento naturale meraviglioso e una grande e tutti ricordano poi veramente con grande affetto io sono stata molto fortunata ho avuto una famiglia che non mi ha fatto pressioni per cui anzi mi chiedeva quando smettevo ho avuto appunto tutto l'impianto ho avuto Bubi Dennerlein che ha capito che io ero la più schiappa di tutta la squadra quando è arrivato Bubi Dennerlein se tutte le schiappe fossero così novella io tifo per le schiappe anche io mi sento schiappa guardiamo una cosa molto bella che ti riguarda infatti a proposito di incontri non è sfuggito al grande Pippo Baudo naturalmente un atleta come te guardiamolo insieme novella Caligari novella Caligari noi vi vogliamo noi vi vogliamo molto bene ringraziamo la federazione nuoto pallanuoto tuffi insomma per il vostro intervento perché veramente questo è un invito a tutti quanti i giovani ragazzi a frequentare le discipline sportive perché fanno bene ve lo sviluppano fanno vei muscoli io non ho fatto sport e mi sono ridotto così e si vede insomma è chiaro non ve la Caligari a quanti anni hai iniziato a nuotare? a cinque anni cinque anni eh cinque anni già nuotare che poi io do del lei perché lei è commentatore no? no cavaliere ufficiale cavaliere ufficiale cavaliere ufficiale la prima olimpiade cavaliere ufficiale poi i commentatori la faranno re regina allora in quei prossimi campionati cosa faranno? l'anno prossimo l'anno prossimo e a scuola ovviamente che cosa frequenta? quinto liceo scientifico quinto liceo scientifico il nostro grazie a tutti voi grazie 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 Pippo Baudo non si sfugge lui ti consacra sempre ecco vale per tantissimi personaggi dello spettacolo dello sport siamo sempre molto grati a lui però tu oltre ad essere campionessa quello che sappiamo tutto quello che hai vinto anche soprattutto in determinazione perché sei sempre stata anche oltre te stessa abbiamo 71 titoli italiani 21 europei sembra proprio sempre in ascesa cioè con te stessa proprio questa ma è quello che capì Bui D'Enerlein lui mi sfidava lui ha capito che come era la sfida mi fece fare per la prima volta gli 800 stile libero dicendomi io chiesi perché io devo fare gli 800 stile libero lui mi disse così stai 12 minuti zitta solo che io feci il sesto tempo italiano e da lì lui non mi portò ai campionati italiani io vinsi categoria non mi portò agli assoluti e io sempre ma perché è lui perché sei troppo piccola per la pulce sì era sempre mi ha sempre tenuto molto low profile perché voleva aveva capito evidentemente le mie caratteristiche e quindi voleva farmi fare un passo alla volta e questo è importantissimo nello sport perché molti giovani vengono bruciati molto presto cioè se un bambino va forte ci sono vari motivi o uno sviluppo precoce o un allenamento troppo grande rispetto alla sua età troppo troppo intenso oppure è un talento ma questa è molto rara quindi l'importante è fargli fare passo dopo passo anche perché poi per non avere poi delle frustrazioni delle aspettative che poi invece non possono essere realizzate a proposito di talenti e i genitori non devono intervenire esatto hai fatto bene a dirlo a puntualizzare queste cose così un attimo di riflessione ci vuole ecco è proprio